Grazie a tutti Come cazzo seguira? Come seguira sto coso? Allora innanzitutto Io posso attirare su? Come seguira? Che hai fatto tu? No, sì, sono io Ah, è il mio toccolo Tu fai qualcosa? Che pure no Ah, tu spari Non è che guido C'è scritto segnala terreno Attiva e disattiva il tempo Oddio, segnalo e basta Dove tocca andare Non so È un po' che non dici una parola Come stai? Beh, la buona notizia è che sto iniziando a prenderci la mano Ed è stata una bella distrazione Ascolta, mi passerà Perché non riesco a credere che lo zio non ci sia più Sì, lo so Ti ringrazio per avermi chiesto come sto, comunque Io ringrazio te perché guidi È faticoso come sembra? Parecchio Vedi Che guido Perfetto Non penso che puoi sparare Ci sarà da sparare Mi sicuro Ciao Ehi, mi dispiace per come JD ti ha trattata al villaggio È solo Bell Sei l'ultima persona che deve chiedere scusa per lui Ferma, c'è un cancello più avanti E a quanto pare Questo muro è abbastanza recente Sicuramente nuova COG Il robotino sarà affinato davanti Su, guardiamoci intorno e capiamo come si apre questa cosa Ascolta, JD ti ha nascosto un segreto importante Quindi io come sarei diversi Tu ci hai rivelato il tuo segreto Lui no Sì Non so se stai No, no, vedi qua, dove vai? Stavo ricaricando Mi viene un'ansia a fare la cosa delosita Ok, qua a destra Però qua a destra c'è il coso Sai cosa mi fa arrabbiare più di tu? Vedere JD che fa l'amicone con Fasa Sì, ma da quando? JD li ha mandati in missioni insieme per me Che ti ha aspettato? Ah, armeria Direi che possiamo servirci Oh Jack, avvio Penso così non c'è chi non quella roba lì per terra Guarda Jack ha trovato una mappa della zona Che vuole Ok 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 Il cancello Qua Jack 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 Beh, è stato estremamente facile Bene, qui abbiamo finito Torniamo sullo skiff Ehi, ricordiamoci di lasciare un po' di armi sullo skiff Sai, in caso d'emergenza Bello Per il posto d'arma di sopra C'è scritto pure Ah, sì Che sì Nuova speranza Stiamo arrivando Continuo a chiedermi una cosa JD e l'insediamento 2 Pensi che Marcus lo sapesse Ditto che ha fatto Già Credo lo sapesse Hai visto come ha reagito Sì Beh, a dire il vero Spiega molte cose Ragazzi, mi ricevete? Marcus, sei già tornato a New Efira? Appena è tornato Siete vicini a Nuova Speranza? Quasi Domanda Come sapremo quando saremo arrivati? Ufficialmente Nuova Speranza non è mai esistita Usavano come copertura il deposito spedizioni James Quindi cercate dei binari e seguiteli Binari, capito Oh Speriamo quando avanti Kate, treno deragliato Kate, le nostre coordinate sono oltre quell'apertura Marcheggiamo È qui? Sicuro? Cioè Sì Dovrebbe essere tra quegli altri Aspetta È un accampamento di estraneo Così a nord Pensi siano del villaggio di Oscar Erano del villaggio dello zio Lena e nord Questo diario dice che il loro accampamento è solo scoperto via e sono scappato qui Ma le hanno attaccate ancora Dovremmo trovarli E dire loro dello zio Sì, non sapevo quello e la loro notazione Questo è uno Sì L'altro era pieno di tre cose Ecco il certo La botta secca Nel 1987 Direi che si scende Grazie a tutti Grazie.